Il messaggio di questo spettacolo Il messaggio, un invito al viaggio interiore ma anche al conoscere le proprie capacità Sì esatto, Beppe è stato un po' un talent scout Infatti lui a incoraggiarmi a fare l'attrice, ho seguito e lui se ne è prese le conseguenze E quindi noi con questo spettacolo cerchiamo di dare anche un messaggio di partite, andate, cercate e scoprite cosa volete fare E portatelo indietro se volete Portiamo in scena una bella storia europea della necessità di parlarsi tra le generazioni Betta viene lì, tutto di fila, viene qua Lei è Betta, guardatela E visto che abbiamo una telecamera accesa così dovete cancellare tutto Però l'Europa non si può, è solo i ragazzi eccetera Volete darci una mano nel canale di Sicilia? Guardate che noi siamo Europa e dall'Africa sta arrivando di tutto Ci diamo una mossa, cosa aspettiamo? E se lo tagliate guai Grazie